Il Centro Benessere Re Cosmetic all'interno del Gran Visconti Palace, oltre a un'area spa esclusiva dove gli ospiti possono trovare sauna, bagno turco, idro, in una location molto esclusiva, offre anche la possibilità di poter fare trattamenti estetici, percorsi benessere, con tecnologie all'avanguardia come luce pulsata, ultrasuoni, tecnologia all'ossigeno e massaggi di qualsiasi tipologia. Gruppon l'ho scelto perché mi ha ispirato subito fiducia alla persona per come vi è stata presentata l'azienda e questo secondo me è il primo posto e perché sicuramente è stato il modo più veloce per portare dentro da 4-5 persone al giorno che noi avevamo come nuova gestione a 250 persone nel giro di due giorni. Siamo ormai alla quarta campagna fatta con Gruppon, siamo partiti con una prima che prevedeva un percorso benessere con circa 250 coupon venduti e visto l'ottimo risultato abbiamo deciso di proseguire con Gruppon. Abbiamo fatto altre campagne che sono sempre cresciute in termini di numeri e quindi di coupon venduti. Ogni volta che mi trovo a parlare con colleghi che hanno realtà come la nostra io consiglio Gruppon soprattutto ovviamente magari in un periodo dove ci può essere un momento di difficoltà. Gruppon è quel mezzo più che veloce, serio e sicuro per farti veramente portare dentro persone nuove e poi con la capacità dello staff e delle persone che vi operano all'interno fidelizzare e portare dentro sicuramente nuovo lavoro e nuove possibili clienti.